ciao a tutti oggi prepareremo il couscous con zucche ceci il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono zucca tagliata a cubetti carote tagliata a cubetti cipolla olio evo acqua sale pepe dado vegetale noce moscata acqua couscous precotto ceci lessati diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per tre secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio e insaporire per quattro minuti 120 gradi velocità 3 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le carote la zucca ed azionare il bimbi per quattro minuti 120 gradi anti orario velocità soft aggiungere il sale pepe la noce moscata il bimbi per quattro minuti 120 gradi anti orario velocità soft aggiungere il bimbi per quattro minuti 120 gradi anti orario velocità soft trasferire in una ciotola capiente senza lavare il boccale mettere l'acqua il sale ed azionare il bimbi per 7 minuti 100 gradi velocità 1 aggiungere il cuscus amalgamare bene con la spatola chiudere con il coperchio e lasciare all'interno del bimbi per 5 minuti amalgamando ogni tanto con la spatola il cuscus è pronto trasferire nella ciotola con la zucca e i ceci il cuscus è pronto servire irrorando con un filo d'olio cuscus con zucca e i ceci grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti